Come viviamo in un mondo difficile in cui questo tira e molla di decisioni, questo oggi incentivi sì, incentivi no, andiamo verso l'elettrico, non torniamo indietro, è sicuramente un mondo, una situazione complicata e complessa e per una flotta aziendale, quindi per un'azienda che deve investire la situazione è ancora più difficile, non che per i privati sia molto meglio perché ognuno di noi poi quando deve fare un investimento indubbiamente ha difficoltà, ma un'azienda che genera posti di lavoro, che magari rischia tanto capitale, che ne deve investire altrettanto, indubbiamente ha bisogno di chiarezza, quindi questo tira e molla e non va bene e questo in qualche modo rallenta gli investimenti, rallenta l'economia e rallenta lo sviluppo. Il gruppo Kelliker da questo punto di vista ha una posizione abbastanza neutrale, nel senso che noi siamo partiti, anzi il gruppo è partito tanto tempo fa con delle basi solide che ancora oggi porta avanti, con dei marchi che assolutamente hanno dei motori tradizionali a combustione interna o al limite plug-in hybrid e sta introducendo sul mercato dei mezzi nati elettrici, puramente elettrici. Quindi noi cerchiamo in qualche modo di avvicinarci al mondo delle aziende andando a loro proporre delle soluzioni che siano congeniali poi con il loro utilizzo, con la loro voglia di aggiornarsi, con la loro voglia di essere al passo tecnologicamente ma anche andando a soddisfare la loro voglia di avere un motore tradizionale, una macchina tradizionale perché non dimentichiamo che le flotte sono sicuramente dei furgoni e dei mezzi commerciali, dei light track e noi li abbiamo elettrici ma sono anche tanta automobile e in quel caso noi abbiamo l'offerta con motori tradizionali e con motori elettrici. Il gruppo Kelliker è storicamente uno scopritore di talenti diciamo, scopritore di brand. Abbiamo di recente annunciato la distribuzione in Italia di un'automobile piccolina, in effetti è un quadriciclo perché è omologata L7e ed è una city car ed è la Microlino e ci fa particolarmente piacere perché è un made in Italy, quindi noi oggi importiamo macchine cinesi, macchine coreane, macchine giapponesi ma macchine tedesche, veicoli tedeschi e distribuiamo un made in Italy, quindi siamo molto contenti e molto orgogliosi. È una city car, utilizzo assolutamente cittadino, a dei prezzi contenuti ma che permette di fare un qualunque uso cittadino si pensi di fare con un veicolo. Secondo Kelliker sarà un mercato stabile se non addirittura in leggera crescita. È sicuramente una situazione difficile, l'abbiamo detto anche prima, la mancanza di materie prime, la mancanza di navi, la mancanza di trasporti. Tutto questo in passato ci ha rallentato e non poco, ma in questo momento c'è fiducia perché nonostante tutte le notizie che si sentano c'è voglia di guardare al futuro, c'è voglia di riprendere la vita come era prima, c'è voglia di progredire e quindi noi siamo molto ottimisti e lo dimostra il fatto che stiamo introducendo nuovi marchi in continuazione fiduciosi che il mercato li accoglierà a braccia aperta. Noi abbiamo un approccio multicanale, quindi assolutamente reti di vendita con contratti di concessione, vendita diretta e anche vendita digitale. È una vendita che noi siamo pronti a fare e al momento non funziona, nel senso che tutto pronto funzionerebbe, ma il cliente non è ancora pronto, ma funzionerà. Il punto di forza è la semplicità, la possibilità di farlo in un qualunque momento, da un qualunque posto senza problemi. Il punto debole è che si perde quel contatto umano che poi in fondo piace a tutti quanti.